Vittorio mamma mia 5 gol allora io vengo allo stadio vedo 5 gol e vedo il gol del ninja c'è veramente qualcosa dei volevi incredibile volevi ragazzi scrive l'emozione quando ha segnato Nainggolan è come se avessimo segnato l'1 a 0 all'ultimo secondo uguale quando ha entrato Nainggolan lo ha fatto con me di che segna è vero è possibile mancavano quattro minuti tre minuti non lo potrà mai fare un gol invece proprio lo scadet ci ha segnato l'arbitro fischiato comunque prestazione stupenda da tutta la squadra domani farò il video che vi spiegherò per bene la partita come l'ho vissuto eccetera faccio sto breve video per caricarvelo subito sempre forza Inter e un saluto saluto bella raga forza Inter